Ciao a tutti, bentornati sul mio canale! Oggi sono qui per filmare il video che è il proseguimento del video scorso se non l'avete visto sono andata a fare shopping con Kurt visto che era uno dei video che mi richiedevate di più e niente, siamo appena tornati infatti Kurt è ancora nell'ovetto e ci tenevo a rifarvelo vedere perché è davvero carinissimo gli ho slacciato la giacca, glielo ho tolta per metà e poi gli ho slacciato le cinture dell'ovetto e è davvero troppo carino poi con queste scarpette è un amore e quindi niente, appunto volevo farvelo rivedere non ho comprato solo cose per la mia Reborn ovviamente però visto che il canale si incentra su quello adesso vi farò vedere principalmente solo quelle e niente, per ora diciamo in questa inquadratura vedete qua delle scatole che sono per la mia stanza e qua sotto dei vestiti che sono per me una ragazza mi ha chiesto perché non faccio mai vedere i vestiti che acquisto per me e appunto perché il canale tratta di Reborn però se vi interessa magari ogni tanto posso farvi qualche video di cose che compro per me, non so fatemi sapere se vi interessa e niente, le cose che ho preso per Kurt sono qui in questo sacchetto e non le ho prese tutte oggi in realtà alcune le avevo prese un po' di giorni fa e niente, adesso ve le faccio vedere subito e niente, direi di iniziare la prima cosa che vi faccio vedere è questo cappellino che ho preso da H&M è davvero carinissimo ed è molto 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 peloso perfetto per l'inverno ha le orecchie da orsetto, mi piace tantissimo e a Kurt sta davvero molto bene quindi sì, questo abbinate al cappellino, diciamo così ho preso queste pantofoline che sono carinissime sono perfette per l'inverno sia per stare in casa sia per uscire sono la prima taglia anche queste e sono davvero piccolissime mi piacciono un sacco con questi orsetti e le orecchiette pelose poi ho preso questo set di cappellini che sono i cappellini basic di H&M allora questo qui è di questo blu abbastanza particolare con questo cartellino che ho scritto New Arrival e il secondo ha lo stesso cartellino adesso ve lo faccio vedere eccolo però è a righe così mi piace davvero tanto sempre da H&M ho preso questo questo set che si compone di un body fatto così con il colletto e il papillon e qui ci sono questi tre bottoncini davvero molto molto carini quindi è un body bianco normalissimo per il resto e poi include anche il pantalone allora è fatto così ha un leggings sostanzialmente abbastanza stretch anche e dietro mi sembra che abbia le tasche sì vere tasche mi è piaciuto davvero tanto quindi ho deciso di prenderlo e l'ultima cosa che ho preso è questa qui questa qui è una clip per il ciuccio della Nubi della Navi non so bene come si pronunci e niente mi piace davvero tanto a differenza di quella della Mam ha sempre l'anello però costava molto di meno quindi ho deciso di prendere questa appunto per Kurt ovviamente perché è azzurra con questa zebra molto molto carina e quindi niente questi erano gli acquisti che ho fatto io spero che questo video vi sia piaciuto se è così lasciate un bel pollice in su condividetelo iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati su tutti i video che carico e noi ci vediamo prestissimo con nuovi video ciao ciao